fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti e allora rimbalzano sul web non solo sul web anche su certi giornali anche quotidiani importanti e su certe televisioni rimbalzano voci su un avvicinamento conte juve allora ragazzi ora vi spiegherò i motivi i motivi per cui non credo a questa che ritengo una bufala atta solamente a far vendere qualche giornale oramai una volta giornali importanti oramai li considero giornalini per come sono scesi in basso aumentare l'audience di qualche televisione far vendere giornali vi spiego perché conti alla juventus non tornerà mai uno motivo più futile perché molti di noi non guarderebbero più partite della juve se la juve riprendesse quell'infame con sé ma questo è il problema minore il problema non si pone perché perché chi conosce agnelli chissà quanto sia per maloso il nostro presidente e questa volta ha ragione da vendere diciamocelo chi conosce agnelli dicevo non non può mai pensare a un ritorno di conte alla juve perché agnelli quando si lega al dito qualcosa quando mette qualcuno sulla sua lista nera è segnato a vita mise alessandro del piero sulla sua lista nera per molto molto meno per una parola detta fuori posto e del piero fino a quando ci sarà agnelli non tornerà mai nei quadri dirigenziali non tornerà mai perché agnelli se l'è legato al dito figuriamoci quello che fece conte agnelli odia conte lo odia profondamente lo odia molto più di me molto più di quanto lo odio vi dico solo questo e dovreste saperlo è nel libro è nella lista nera di agnelli agnelli non si calerebbe mai i pantaloni non si abbasserebbe mai i pantaloni agnelli mai 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 per un suo ritorno ma stiamo scherzando cioè dopo quello che ci ha fatto agnelli ha fatto capire che gliela gli avrebbe fatta pagare a vita figuriamoci perciò ragazzi pensate con la vostra testa non guardate sempre la prima notizia che rimbalza ragionate con il vostro cervello maledizione se la maggior parte di questo anale siete maggiorenne vaccinati e vi ritengo persone intelligenti usate la vostra intelligenza usatela è molto più probabile un allegri all'inter ci può stare benissimo che non un conte alla juve poi il punto di vista tecnico non sottovalutiamo neanche la juve da anni gioca gioca a quattro come tutte le bighe europee tornare a giocare a tre non lo fa quasi nessuno in europa tornare a giocare a tre sarebbe un passo indietro dal punto di vista tecnico tornare indietro di cinque sei anni di sette anni perché cosa giocare a tre in europa ancora ma come facciamo cerchiamo di fare passi in avanti torniamo indietro ma questo comunque l'ultimo questo è l'ultimo tassello della vicenda della cosa principale è l'odio che agnelli prova per il signor conte pari solamente a quello che provo io poi se dovesse veramente concretizzarsi l'imponderabile vi assicuro che io non guarderò mai più una partita della juventus fino a quando ci sarà quel quel maledetto bastardo ma il problema non si porrà ragazzi perché non succederà mai fidatevi dell'enigmista fino alla fine grazie a tutti grazie a tutti